Benvenuti alla mostra Teatro. Autori, attori, maschere della scena antica, ospitata presso il Museo dell'Arapacis Auguste fino al 3 novembre 2024. Inizia qui il percorso dell'esposizione ideato per raccontare la forza vitale degli spettacoli teatrali e i protagonisti delle scene nella Roma antica. I video lisse sottotitolati sono segnalati lungo il percorso espositivo con apposite icone. Ogni civiltà ha il suo teatro e quello occidentale affonda le radici della drammaturgia che prese forma in Grecia a partire dal VI secolo a.C. Dal dramma greco e da pochi altri apporti deriva il teatro romano. La tradizione venuta in questo modo a formarsi va in scena ancora oggi e vive nell'uomo occidentale. Il percorso espositivo è diviso in grandi aree tematiche. Inizia con un'ampia introduzione che parte dal contesto religioso e politico del teatro greco e attraversa il contributo che l'Etruria, la Magna Grecia e i popoli italici fornirono al sorgere del teatro latino. Si approda quindi a Roma. Qui il primo focus è sulla commedia latina, con Plauto e Terenzio che si presentano attraverso installazioni multimediali accessibili e sul tragico a Roma tra tradizione e innovazione. Segue una sezione dedicata alla condizione degli attori, dei mimi e degli altri protagonisti del palcoscenico romano. La parte centrale dello spazio espositivo è invece riservata al ruolo fondamentale della musica nel teatro antico. Un approfondimento è infine dedicato ai luoghi e all'eredità monumentale che il teatro romano ci ha lasciato. Nel corridoio di uscita, l'antico si apre alla contemporaneità, con una panoramica sulla vitalità del teatro classico del primo novecento fino ai nostri giorni. L'esposizione è promossa e prodotta dalla sovrintendenza capitolina ai beni culturali. Il supporto organizzativo è di Zetema Progetto Cultura. Il percorso accessibile è realizzato in collaborazione con RAI Pubblica Utilità.